Come hai detto, ci sono anche difensi da un'altra parte. No, fai una faccia classica. Faccia classica. Intervallo. No, non sei classico. Ci ho provato. Classico, ma hai fatto tecnico se vuoi. Vabbè. Lui è classicissimo. Ma quasi greco, tragico. Questo non è greco, l'utroni, te la bacio. Con la codona. No. E io mi per via. Questo invece è tragico. Beh, assolutamente la morte, non è la classica. Accidenti, capace.